Ciao, quest'oggi, 8 giugno 2019, siamo sulle colline di Castiglione Fiorentino, presso Villa Schiatti, una location tradizionale, rustica, proprio per gli amanti del settore, che offre uno scenario altamente incantevole. Alle mie spalle invece abbiamo una panoramica veramente mozzafiato, che fa prendere aria. Proprio in questa zona qua verrà di Vito l'aperitivo di benvenuto, dove noi accoglieremo tutti gli invitati con un po' di musica soft, musica jazz. Mentre all'interno di questa favolosa location verrà appunto siloppato il pranzo di nozze. Si prevede una giornata magica, una giornata tranquilla, e stiamo aspettando ancora gli sposi Lorenzo e Sabrina, che gli mandiamo i nostri migliori auguri. Un bacio, il Centro Artistico Toscano, Daniele Parenti, Castiglione Fiorentino, Villa Schiatti. Ciao, 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 ciao.